Consiglio regionale prima lo statuto poi la giunta torna a riunirsi questo pomeriggio all'assemblea di Palazzo Campanella all'ordine del giorno la riforma dello statuto noi seguiremo e lavori in diretta con uno speciale a partire dalle 15. Lo stretto torna a tremare una scossa a 3.1 gradi della scala Richter tra Messina e Reggio Calabria tanta paura ma non si sono registrati danni a cose o persone. Drangheta nuova retata a Roma scacco alla cosca pizzata della Locride 30 persone in arresto nell'ambito dell'operazione antimafia condotta nella capitale da polizia e guardia di finanza. Io super test e abbandonato la denuncia di Francesco Maria Vinci testimoni di giustizia nel procedimento antimafia never ending. Al nostro microfono l'appello lanciato alle istituzioni. Delitto ciriaco train abbreviato saranno giudicati con rito alternativo il mandante e i presunti esecutori materiali dell'omicidio eccellente dell'avvocato Torquato ciriaco avvenuto 12 anni fa nei pressi di Maida. Buon pomeriggio e bentrovati. Oggi torna a riunirsi la massima assemblea calabrese. L'aula dovrebbe dare il disco verde alla riforma dello statuto. Poi Mario Oliverio procederà alla nomina dell'aggiunta. Monito al governatore dai sindacati la Calabria non può più aspettare. Sentite. Torna a riunirsi il consiglio regionale. Da questo pomeriggio si dovrà fare sul serio. A due mesi dalle elezioni che hanno consegnato a larga maggioranza la Calabria nelle mani di Mario Oliverio si attende ancora una giunta che possa incidere sulle emergenze che attanagliano la punta dello stivale. Emergenze sottolineate ieri dai sindacati. Non possiamo più attendere i tempi della politica hanno tonato CGL e Cisle Will. Ma tutto è legato alla riforma dello statuto. Oggi la Cisle sarà in aula proprio con questo obiettivo. Per raggiungerlo servirà una maggioranza qualificata. Saranno indispensabili dunque ancora una volta i voti del nuovo centrodestra per dar seguito alla proposta di legge depositata nei giorni scorsi da quattro consiglieri. Duplice l'intento del Presidente della Regione. In primis abolire la figura del consigliere supplente a favore di quello delegato ed in secondo luogo eliminare il limite degli assessori esterni che, stando così, le cose non potrebbero essere più della metà dell'intero esecutivo. Anche se la riforma necessita di un nuovo passaggio in seconda lettura entro tre mesi a Palazzo Campanella, le modifiche da quanto trapela potranno ritenersi effettive sin da questa sera. Dunque si potrà procedere alla formazione della Giunta. I principali indiziati rispondono ai nomi ripetutamente fatti nei giorni scorsi. Nell'esecutivo dovrebbe esserci posto per Carlo Guccione, primo degli eletti nella circoscrizione di Cosenza. Spazio a quanto pare anche per Maria Francesca Corigliano in quota Oliverio. Gli uomini del Premier da Roma avrebbero dato invece una propria chiarissima indicazione, quella del sindaco di Pizzo Gianluca Callipo, ma il nome più altisonante che potrebbe finire nell'esecutivo è quello del Ministro per gli Affari Regionali Maria Carmela Lanzetta. Potrebbe essere la volta buona dopo la fumata nera per la poltrona di Presidente del Consiglio regionale per Vincenzo Ciconte e non si esclude del tutto l'opzione Nino De Gaetano. E vi ricordo che oggi a partire dalle 15 seguiremo in diretta i lavori del Consiglio regionale, naturalmente per un'esclusiva della C. E ancora politica, Mario Oliverio ha insediato l'osservatorio regionale per l'attuazione della legge numero 56 2014 che è detta a disposizione in tema di città metropolitane, province, unione e fusioni di comuni. Ecco le parole del Governatore. Il Governatore Mario Oliverio ha insediato l'osservatorio regionale per l'attuazione della legge che è detta a disposizione in tema di città metropolitane, province, unione e fusioni di comuni. Il Presidente Oliverio ha evidenziato l'importanza di questo passaggio. Per la riorganizzazione istituzionale la questione centrale è quella delle province, ci dice un altro punto, cioè la Regione avrebbe dovuto costituire l'osservatorio agli inizi dello scorso anno e purtroppo non è stato fatto. Quindi tutto questo complica le cose. L'ultima domanda, ma... Oliverio ha lamentato la mancanza di strumenti tecnici adeguati per poter intervenire in questo momento, anche se sono convinto, ha detto, che fin quando non sarà ben definito un nuovo quadro anche legislativo, il nostro riferimento restano le province e l'area metropolitana. L'incontro con il Governatore Oliverio e il Presidente Falsea riaccende alle speranze. C'è il sostegno del Ministero della Salute e un piano per salvaguardare le prestazioni e i livelli occupazionali. La Fondazione Campanella e i suoi lavoratori tornano a sperare, rinfrancate le organizzazioni sindacali dall'incontro con il Presidente della Regione Mario Oliverio e il Presidente della Fondazione Paolo Falsea. Ritrova a vigore quindi la prospettiva di salvaguardare i livelli occupazionali ma anche le prestazioni oncologiche ai calabresi, ciò grazie alle garanzie offerte allo stesso Governatore dal Ministro della Salute. Io ho chiesto un incontro al Ministro della Salute, l'onorevole Lovenzin, che abbiamo tenuto il giovedì scorso a Roma e in quell'incontro abbiamo posto il problema della necessità di difendere innanzitutto l'occupazione, i posti di lavoro e di rilanciare un servizio essenziale come quello del servizio per le prestazioni di cure oncologiche. Noi abbiamo una situazione in Calabria davvero paradossale, la Calabria per ricorso a cure dei calabresi fuori regione sopporta oltre 53 milioni di euro annui e poi abbiamo praticamente i nostri servizi carenti. Il futuro della campanella e dei lavoratori dipende dalla fattibilità di un piano industriale sul quale il Presidente Paolo Falzea si mostra fiducioso. Piano serio, poi proviene da uno dei due subcommissari fatto su incarico del Ministero della Salute per cui sicuramente è un piano credibile. Voltiamo pagina, paura questa mattina tra Reggio e Messina. Alle 8.17 si è registrata una scossa di magnitudo 3.1 della scala Richter con epicentro nelle acque dello stretto. Non si sono registrati danni a cose o persone. Sentiamo. Una scossa di terremoto ha fatto da sveglia le popolazioni di Reggio e Messina. Intorno alle 8.17 infatti di oggi una scossa di magnitudo 3.1 della scala Richter con epicentro nelle acque dello stretto davanti a Galati Marina e al centro di Reggio Calabria è stata avvertita nitidamente dai due territori. La profondità della sisma, fanno sapere dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologie, è stata di 10,9 chilometri. Nessun danno registrato a cose o a persone, ma un po' di paura soprattutto per chi si trovava ai piani alti. I dirigenti scolastici di alcune scuole del centro cittadino di Reggio hanno deciso di mettere in atto il piano di evacuazione in caso di terremoto. Per questo motivo, soprattutto nelle zone vicino ai plessi scolastici interessati, si sono verificati disagi alla circolazione che lentamente sta tornando alla normalità. Dopo mesi di silenzio si torna quindi nuovamente a tremare in riva allo stretto e dagli NGV fanno sapere che l'epicentro ha interessato un'area dove insistono delle piccole faglie considerate secondarie alla grossa faglia madre denominata Messina Giardini, causa del sisma del 1908. Si prevedono delle lievi repliche nei prossimi giorni, ma tutto rientrerà, a detta dei geologi, nella normalità. Le future scosse saranno quindi strumentali e alcune non verranno neanche percepite. E ancora cronaca, oltre 30 arresti e perquisizioni in diverse regioni. Questo è il bilancio provvisorio dell'operazione coordinata dalla DDA di Roma che ha portato all'identificazione di alcuni affiliati alla cosca pizzata di Locri. Le indagini hanno permesso di ricostruire le circostanze dell'omicidio del boss Vincenzo Femia. Continua l'offensiva dalla Procura di Roma sulle ramificazioni capitolina dell'Andrangheta. A finire sotto assedio nelle scorse ore la cosca pizzata originaria della Locri. 30 presunti affiliati alla matrice calabrese impegnati a replicarne il modello nella capitale sono stati raggiunti da ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un'operazione condotta da Polizia e Guardia di Finanza e coordinata dal procuratore aggiunto della DDA Michele Prestipino. Secondo quanto emerso dalle indagini i presunti affiliati alla cosca che dal cuore della Calabria manteneva il controllo sugli uomini, sugli affari, erano attivi soprattutto nel traffico di sostanze stupefacenti. Nel corso della mattinata sono state eseguite in diverse regioni decine di perquisizioni il bilancio provvisorio di 600 kg di cocaina e hashish sequestrati e diverse armi da fuoco. Inoltre in un quaderno cifrato a penna è stato ritrovato anche un codice di San Luca contenente il rito di affilazione alle Andrangheta. Le indagini hanno anche permesso di far luce sull'omicidio del vostro di San Luca Vincenzo Femia, ucciso a Roma il 24 gennaio del 2013, ritenuto il referente della cosca Nieta a Scalzone nella capitale. Passano allo Stato i beni del clan gentile africano Diamantè, a suo tempo anche il porto finì sotto sequestro. Il provvedimento è stato eseguito dal Gico di Catanzaro. Sentite. L'aggressione ai patrimoni mafiosi da parte del Gico della Guardia di Finanza di Catanzaro, che ha assestato una maxiconfisca per un valore di circa 15 milioni di euro alla cosca gentile africano, una delle più potenti del terreno cosentino. Il provvedimento è la conseguenza di un'inchiesta giudiziaria iniziata nei confronti del boss Tommaso Gentile, indicato dai pentiti come reggente del clan africano dopo l'omicidio del capo bastone francesco africano. Gli accertamenti investigativi hanno fatto luce anche su traffici di droga, attività di riciclaggio e intestazioni fittizie realizzate dalla cosca Egemone Damantea, oltre che sul controllo del porto e la cittadina cosentina. Una cosca capace anche di andare a braccetto con alcuni noti esponenti politici della zona, quella dei gentili africano, poi disarticolata con una vasta operazione di polizia giudiziaria che ha condotto a 39 provvedimenti di fermo, molti dei quali poi convertiti in ordinanze di custodia cautelare in carcere. Al tempo del blitz, su proposte agli 007 del Gico, venivano sottoposte a sequestro diversi beni mobili e immobili. In particolare, oltre al porto di Amantea, venivano apposti sigilli anche da attività commerciali imprenditoriali e alla motonave Benedetta II, utilizzata per le crociere alle Isole Olie. Ed ora ascoltiamo ai nostri microfoni il testimone di giustizia, Francesco Maria Vinci, la cui denuncia contribuì a portare a termine l'operazione antimafia Never Ending. Oggi si sente solo e abbandonato. Solo, senza un lavoro, senza alcuna possibilità di dare sostegno alla sua famiglia, prima vittima dell'Andrangheta. Oggi, dopo la denuncia vittima dell'indifferenza, parla il testimone di giustizia, Francesco Maria Vinci, che con le sue dichiarazioni all'autorità giudiziaria consentì alla DDA di Catanzaro di disarticolare un'organizzazione criminale ramificata tra Pizzo e la Piana di Gioia Tauro. Parla e rivolge il suo appello alle istituzioni. Perché io mi sento abbandonato completamente dello Stato. Io credo nello Stato e nelle sue istituzioni. Quello che ho fatto lo rifarei senza indugio. Però chi dovrebbe avere cura di noi? Se ne fregano altamente. Io chiedo innanzitutto se una persona di potere circolare come tutti gli altri. Una persona libera. Non uscire di casa con la paura di qualche attentato o la paura che ti vanno fuori. Avere una dignità, un lavoro per poter portare avanti la famiglia. Non chiedo altro. Io prima nell'operazione a riedere un imprenditore di prodotti ittici che purtroppo si sta comenta a finire. Dall'epoca ho sempre navigato, ho fatto ufficiale in marina e mercantile. Da circa un anno e mezzo a questa parte la società, anche perché alcuni di questi soggetti navigano, ho fatto lasciato a piedi. Io mi trovo con due figlie che non so più come gestire, nemmeno per comprargli il pane. Io mi rivolgo a loro, signor prefetto, qualcuno delle situazioni a potermi dare una mano, ma anche non di aiuto economico, ma anche per poter trovare un lavoro. Cioè rimbarcarmi e poter riconquistare la mia dignità di padre. Secondo la DDA di Catanzaro, l'omicidio dell'avvocato Lametino Torquato Ciriaco fu ordito dal cartello Anello Fruci. In tre alla sbarra, il giudizio con rito alternativo inizierà il prossimo 20 aprile. Luce su un delitto eccellente, quello dell'avvocato Lametino Torquato Ciriaco. Fu assassinato in un agguato di chiaro stampo mafioso l'1 aprile del 2002, quando all'altezza del bivio Due Mari di Maida un commando affiancò il fuoristrada a bordo del quale viaggiava, crivellandola a colpi di fucile caricato a pallettoni. Secondo le indagini condotte dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, Ciriaco fu condannato a morte dal cartello ondranghetista degli Anello Fruci di Filadelfia e Coringa. Tommaso Anello, fratello del boss Rocco, avrebbe ordinato l'omicidio del professionista, il quale avrebbe curato l'acquisto di una cava che la malavita voleva finisse ad un imprenditore già soggiocato. A svelare per primo in retroscena dell'agguato fu il pentito Francesco Michienzi, in un interrogatorio reso il 17 gennaio del 2007, al PM Gerardo Dominiani. Spiegò ogni singola fase, dalla pianificazione all'esecuzione. Le indagini trovarono un nuovo impulso grazie agli approfondimenti investigativi della squadra mobile di Catanzaro, diretta da Rodolfo Ruperti. Ottenuti i necessari riscontri, la procura antimafia del capologo di Regione, con il PM Elio Romano, ha concluso le indagini chiedendo e ottenendo il rinvio a giudizio del presunto mandante, Tommaso Anello, e dei fratelli Giuseppe e Vincenzino Fruci, che avrebbero fatto parte del commando. Rinviati a processo dal gruppo Giuseppe Commodaro, i tre imputati hanno optato per il giudizio abbreviato, che inizierà il prossimo 20 aprile. Attestati di vicinanza al sindaco di Tropea Giuseppe Rodolico, colpito la notte tra domenica e lunedì da un attentato. Sentiamo. Un fiume di solidarietà al sindaco di Tropea, dal mondo della politica, da sindacati, imprenditori e dalle istituzioni. Un attentato che ha scosso l'intera comunità e non solo. La notte tra domenica e lunedì dei malviventi hanno fatto saltare in aria l'automobile del sindaco Giuseppe Rodolico. L'auto era parcheggiata sotto la sua abitazione in via Tondo. Il boato fortissimo ha svegliato gli abitanti del centro turistico del Vibonese e ha mandato in frattumi anche l'unotto posteriore di un'altra vettura, una Fiat Panda, parcheggiata davanti all'auto del sindaco. Tanti gli attestati di vicinanza. Ernesto Magorno, segretario regionale del PD, parla di un gesto vile ed inusitata violenza che si aggiunge a quelle minacce che turban il lavoro di tanti amministratori calabresi che si impegnano quotidianamente in maniera trasparente al servizio delle loro comunità. Il presidente del Lanci, Piero Fassino, si augura che responsabili di un'intimidazione così vile e violenta siano rapidamente individuati e puniti. Dura condanna pure dalla senatrice del PD, Doris Lomoro, che nell'esprimere solidarietà e vicinanza al sindaco Rodolico, sottolinea che l'episodio delittuoso colpisce l'amministrazione comunale, oltre che il proprietario del veicolo distrutto. Andrea Nilla, presidente della provincia di Vibo, si dice preoccupato per la crescita esponenziale di questi atti criminali, che creano sul territorio un clima di grande tensione sociale. Parole riprese dalla Federazione Provinciale del Partito Democratico, Bruno Censore, deputato del PD, e dal Ilanesci del Movimento 5 Stelle, tropeana di origine. Infine, solidarietà al sindaco Rodolico è stata espressa dal capogruppo di Forza Tropea, Giovanni Macri, e dal presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Insomma, un attentato sul quale si spera che gli investigatori riescano presto a far luce. Ed ora vediamo insieme le altre notizie di cronaca del giorno. Ennesimo sbarco a Crotone. 75 emigranti hanno raggiunto la costa a bordo di una barca a vela. Un primo gruppo è stato rintracciato dai carabinieri di Ciro Marina, mentre aveva già raggiunto la strada statale 106. A prestare soccorso in mare, l'imbarcazione, incagliatasi sulla battigia, una motovedetta della Capitaneria di Porto, impegnata nelle operazioni di pattugliamento del litorale. I naufraghi risultano tutti in buone condizioni, a parte uno ferito in stato di grave ipotermia che è stato ricoverato nell'ospedale di Crotone. È stato arrestato con l'accusa di tentata a concussione e condotto in carcere Giuseppe Isola, di 48 anni, l'ex assessore del Comune di Palmi, nei confronti del quale il 28 novembre scorso era già stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare per lo stesso reato. Gli agenti della Polizia Locale hanno eseguito un'ordinanza emessa dal GIP di Palmi, Giulio De Gregorio, su richiesta del Procuratore della Repubblica. L'ex assessore Isola al momento dell'arresto si trovava ai domiciliari, beneficio che è stato revocato in occasione del nuovo arresto. Poteva avere conseguenze drammatiche la rissa scoppiata tra alcuni cittadini romeni a Corigliano. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato cinque soggetti. Per alcuni è scattata l'accusa di tentato a omicidio. I fermati hanno tutti tra i 24 e i 30 anni. La lite sarebbe scoppiata per futili motivi. Una delle due vittime è ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale di Cosenza. I finanziere di Monte Giordano nel Cosentino hanno sequestrato 18.000 litri di gasolio ad uso agricolo. A seguito di un controllo su strada i militari hanno fermato un'autobotte che transitava sulla statale 106, risultata priva di assicurazione con revisione scaduta e documentazione fiscale in idonea al trasporto del prodotto petrolifero. Il mezzo è stato sequestrato, l'autista denunciato per contrabbando ed utilizzo ai fini diversi di gasolio agevolato, falso materiale e falsità in scrittura privata. Oltre 2.500 articoli sottoposti a sequestro per un valore commerciale di circa 40.000 euro. La contestazione è di violazione delle disposizioni del codice del consumo che prevede pesanti sanzioni pecuniarie. E questo è il bilancio di un'operazione condotta dai finanzieri della compagnia di Vibo Valencia in alcuni grandi magazzini gestiti da cittadini di nazionalità cinese. I finanzieri hanno anche avviato verifiche di natura fiscale. Imprenditori e sindacati lanciano l'allarme. Serve una nuova governance per evitare l'isolamento del territorio reggino. Sentiamo. Sull'aeroporto dello Stretto è in atto una strategia ben precisa, tesa ad un progressivo ridimensionamento dello scalo. E questo è il grido d'allarme lanciato dai vertici di Confindustria Reggio Calabria, che in questo quadro puntano l'indice contro il mancato riconoscimento della concessione trentennale da parte dell'ENAC. Un impasse che, secondo il giudizio degli imprenditori, rischia di portare il tito Minniti in breve tempo alla definitiva chiusura. Circostanza da scongiurare, ribadiscono da Via del Torrione, se si vuole evitare il totale isolamento del territorio reggino e con esso ogni ipotesi di ripresa economica legate soprattutto alla città metropolitana. Ma a tenere banco ci sono anche le ormai note difficoltà economiche della SOGAS, la società di gestione dello scalo, che impongono una rimodulazione del sistema di governance dell'aeroporto dello Stretto. La priorità adesso è però la salvaguarda di uno scalo che, nonostante tutto, continua ad essere annoverato tra gli aeroporti di interesse nazionale nell'ambito del piano strategico del Ministero dei Trasporti. A mancare, semmai, è una visione di sistema, rincarano i sindacati, che invitano i vertici della SOGAS a individuare gli interventi necessari per impedire il tracollo dello scalo. Ai lavoratori che con responsabilità hanno accettato la cassa integrazione è stato già chiesto tanto, evidenziano gli esponenti di CGL, Cisle e Will. E l'incertezza sulla concessione trentennale non lascia affatto tranquilli. Per questo i sindacati indicano nell'istituzione di un consorzio unico di gestione tra le società aeroportuali calabresi di Reggio, Lamezza e Crotone una prima via per invertire la rotta. Uno scenario questo in cui appare fondamentale il ruolo della politica e i cui ritardi decisionali rischiano di far precipitare ogni possibilità di rilancio del tito Minniti. Voltiamo pagina, entra nel vivo il dibattito in vista delle primarie per la scelta del candidato di centrosinistra al comune di Vibo Valencia. Ai candidati già noti si aggiunge il sindacalista dello Slai Cobas Giovanni Patania, non parteciperà invece rifondazione comunista. Si allarga la rosa dei contendenti alle primarie cittadine del centrosinistra previste per il prossimo 22 febbraio a Vibo Valencia. Il PD prova in queste ore ad arrivare alla candidatura unitaria. Il favorito è il giovane notario Antione Olloschiavo, sostenuto dai Cuperliani ed anche da diversi Renziani. L'alternativa potrebbe essere costituita da Marco Tallarico, il capogruppo d'opposizione sostenuto dall'ex presidente della provincia Francesco Denisi, ormai in rottura con Gianluca Callipo. Per il resto è certa la candidatura di Francesco Colelli per Sinistra Ecologia e Libertà, come pure quella di Pietro Giamborino per Campo Democratico. Probabile l'impegno di Cesare Pasqua per la compagine che porta il nome del presidente Mario Oliverio. Cinque nomi ai quali va ad aggiungersi quello del sindacalista dello Sly Cobas Giovanni Patania che ha rotto gli indugi nelle scorse ore decidendo di giocarsi in prima persona la partita delle primarie. Chiare le motivazioni che suonano come veri e propri strali all'indirizzo del PD cittadino, dobbiamo spezzare a tuonato Patania questo gioco di potere, non è accettabile che si siano già diviso tutto. Bisogna dire basta a questi inciuci pensando di dare una speranza ai lavoratori. Inaccettabile per l'ex dipendente dell'Italcementi che il candidato a sindaco esca ancora una volta dai salotti buoni della città. Non parteciperà alle primarie invece di fondazione comunista, la consultazione dal basso per il partito di Ferrero e l'ennesimo blep della democrazia, utile solo a risolvere contrapposizioni interne al PD. Perentorio il sindaco di Crotone che spiega la tipologia di interventi sull'importante sito archeologico. Si tratta di opere, spiega, che si effettuano tranquillamente in tutto il mondo. Cemento a capocolonna? No! Tutto ciò che è stato fatto rientra nel contesto di interventi volti a tutelare e valorizzare il sito e il patrimonio archeologico che custodisce. Parola del sindaco di Crotone Peppino Vallone che affronta di petto le polemiche scatenatesi sugli interventi adottati su uno dei più importanti tesori calabresi. Si è arrivati alla soluzione di conservare e proteggere i reperti stessi con le tecniche che avvengono in tutte le archeologiche del mondo che sono appunto manti di sabbia, degli strati, dei teli particolari, una rete elettrosaldata, una parte di cemento che non è finalizzata a cementificare ma è finalizzata a proteggere i reperti e attraverso queste tecniche reperti non sono utilizzate solo a Crotone o a Capocolonna ma sono utilizzate in tutto il mondo, si è provveduto diciamo alla conservazione di quei reperti. Il primo cittadino della cittadina Ligure ha inviato una lettera di ringraziamento al cantautore calabrese Maurizio Scicchitano per ringraziarlo del brano che omaggia la Kermesca Nora. Sentite. Lo spettacolo è qui come sempre supremo ogni anno è di nuovo Sanremo. Il sindaco di Sanremo Alberto Banchieri ha scritto una lettera di ringraziamento all'autore e compositore calabrese Maurizio Scicchitano che assieme al fratello Piero, al paroliere romano Avio Focolari, ha realizzato il brano Il fiore all'occhiello, omaggio musicale al festival della canzone italiana e alla città che io lo ospita da 65 anni. Il videoclip della canzone sulla Kermesca in programma dal 10 al 14 febbraio nella città dei Fiori è disponibile da alcuni giorni sul web. Ho avuto modo di ascoltare, scrive Banchieri nella lettera su carta intestata del comune di Sanremo recapitate ai fratelli Scicchitano, il vostro omaggio musicale alla mia città e al suo festival e ringrazio vivamente dell'attenzione che lei e il suo staff avete voluto dedicare loro. Si tratta di un riconoscimento meraviglioso e di un'attenzione importante ha commentato Maurizio Scicchitano per una canzone ormai entrata a far parte dei brani storici della manifestazione. È stata una bella emozione ricevere la missiva del sindaco di Sanremo, che ringrazio per le belle parole e gli auguri per la nostra attività. Riconoscimento all'impegno profuso per il sociale, quello conferito alla Malgrado Tutto, cooperativa Lametina, che in questi anni si è rivelato una realtà in prima linea nell'accoglienza e nel sostegno delle persone bisognose. Vediamo di cosa si tratta. Riconoscimento per Raffaello Conte e la Malgrado Tutto, la cooperativa che da molto tempo ormai è impegnata ad offrire il suo aiuto in tutto il mondo con il volontariato e che alla Mezzia gestisce più di una struttura. L'associazione La Sveglia 2.0 ha consegnato una targa a Raffaello Conte e alla cooperativa proprio nella città della Piana dove è la stessa sede. Per il lavoro svolto negli ultimi mesi sulla Mezzia. Con la consegna del conoscimento è stato sancito un accordo di collaborazione che va nella comune volontà di ridare ai Lametini una città bella e pulita. Conte e la sua cooperativa sono impegnati da anni nel recupero del territorio. L'associazione ha voluto in particolare riconoscere l'attività che svolge nella zona ovest della città. Infatti, qualche mese fa, nell'ambito dell'operazione denominata la Mezzia Pulita, è stata attuata una convenzione tra il comune e la malgrado tutto per la manutenzione del verde. Abbiamo voluto dimostrare la nostra riconoscenza a Raffaello Conte e ai suoi collaboratori per come hanno saputo trasformare in solidarietà quello che stava diventando un vero e proprio disagio per la Mezzia. Queste le dichiarazioni dei rappresentanti dell'associazione La Sveglia, i quali hanno voluto esprimere la propria gratitudine per il lavoro svolto sul territorio di San Biase, sia per la pulizia che per la cura dei disabili presenti in quest'area. Il telegiornale termina qui, noi ci vediamo dopo la pubblicità con lo Sport News. Il telegiornale termina qui, noi ci vediamo dopo la pubblicità con lo Sport News. Grazie.